Salve! Beh, non mi saluti? Come sta? Allora, qual è l'arca di Noè? Cosa? La barca di tuo padre, no? Perché? Viene con noi? Sicuro, ti dispiace. Dai, sale. Eh, l'era ora, momenti salvo senza di te. Potevo mica volare, scusa. Sono partita appena mi ha telefonato. Aspetta, togliete un po' le scarpe prima di salire a bordo. Ah sì? Si usa così? Già, prendi i bagagli della signorina a te, portalieri su, vai. Vai, ricordati che sei su noi octane, siamo mica in strada. Non mi hai detto che sarebbe venuta? Com'è? Non te l'ho mica detto. No. Oh, bella. Eh, la comandante, siamo pronti per partire? Siamo pronti, signor Leo.